Gran finale ieri sera del premio Beppe Viola, con la classica premiazione al Casinò di Arco. Tra personaggi illustri dello sport, premi giornalistici, riconoscimenti particolari, tornei femminili e maschili, la carne al fuoco era moltissima. La cerimonia, condotta come sempre da Helio Proc, ha dato spazio in apertura, dopo i discorsi delle autorità, ai premi giornalistici dedicati alla memoria di Beppe Viola. Il dottor Giuseppe D'Amato, coordinatore della giuria presieduta da Sergio Zavoli, ha motivato i riconoscimenti toccati a Sebastiano Vernazza, della Gazzetta dello Sport, e Pierluigi Pardo, di Mediaset. Il primo si è occupato di calcio, ma ha saputo anche affrontare temi scabrosi ed assumere spesso posizioni scomode. Il secondo perché, proprio come Beppe Viola, costituisce una voce dissacrante in un mondo che spesso si prende troppo sul serio. Avevo due miti, ha commentato Vernazza, quel signore che sta seduto lì, Gianni Rivera, e Beppe Viola, una specie di Gianni Brera postmoderno. Non sono riuscito a diventare Rivera, ma essere accostato a Viola oggi per me vale come un pallone d'oro. Mi piace questa manifestazione, ha detto invece Pardo, perché unisce calciatori e giornalisti, due categorie che spesso si occupano della stessa cosa, ma sono così lontani. Per Giovanni Malagò una menzione particolare, perché come ha sottolineato D'Amato, si sta battendo per il ritorno alla pratica dello sport delle nuove generazioni. Il suo motto è meglio una medaglia in meno, ma tanti giovani in più che fanno sport. Il presidente del CONI, nel ringraziare, ha ammesso di trovarsi in un'isola felice, sia per la pratica dello sport, sia per chi, in maniera del tutto volontaristica, si occupa di promuoverlo. L'Italia, ha poi detto, non si deve dividere in due gruppi, chi ama il calcio e gli altri. Chi ama il calcio come lo amo io deve aprirsi ad altri sport, così come si cresce dal punto di vista civile se riusciamo a incidere di più nelle scuole, se portiamo alla pratica sportiva i ragazzi tra i 12 e i 16 anni, oggi spesso in sovrappeso e quindi potenziali futuri costi per la nostra società. Sono stati poi consegnati i premi ai giornalisti regionali Angelo Zambotti, collaboratore dell'Adige, e Diego Andreatta, che si è sempre occupato del coordinamento giornalistico di Vita Trentina, fino a diventarne il direttore. Una vera ovazione ha poi accolto Gianni Rivera, il mito del nostro calcio che fu, il quale ha voluto ricordare un paio di aneddoti relativi alla vivacità professionale di Beppe e Viola. Grazie.